Musica Benvenuti a tutti, nuova edizione del nostro telegiornale con le notizie dalle marche di TVRS. Apriamo con il bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus che chiaramente deve essere costantemente aggiornato. È sempre di gran lunga la provincia di Pesaro Urbino a soffrire maggiormente del contagio con 126 tamponi positivi. 23 sono stati rilevati ad Ancona, 7 a Macerata e 3 a Fermo. Il tutto su 585 analizzati, 93 pazienti ricoverati di cui 20 in terapia intensiva, di questi 7 nel solo nosocomio di Fano. Cresce purtroppo il numero dei contagiati anche tra i tanti addetti ai lavori. Nella sola provincia di Pesaro Urbino abbiamo 17 medici di famiglia in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al coronavirus. Di questi due colleghi sono risultati positivi ed uno di loro, a quanto mi risulta, in gravi condizioni. A riferirlo è il dottor Fabrizio Valeri, segretario regionale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, che racconta della battaglia sostenuta dai medici di base, spesso in prima linea nel rapporto con i pazienti. Oggi il Sindaco Ricci ed il Presidente della Regione Ceriscioli hanno fatto visita ai reparti di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Il sistema sta rispondendo bene, ha detto il primo cittadino. Quello che dobbiamo fare ora è muoverci contemporaneamente su tre fronti. L'emergenza sanitaria, la necessità di comunicare calma e tranquillità e non farsi prendere dal panico, perché complicherebbe solo la situazione dal punto di vista psicologico ed economico. Il terzo fronte è proprio quello economico. Commercianti e turismo sono stati i primi a subire l'impatto del virus. Infatti nel nostro primo servizio siamo andati a visitare una delle strutture ricettive più prestigiose della Regione, l'hotel Villa Quiete di Monte Cassiano. Preoccupazione giustificata, ma anche un invito ad un cauto ottimismo. Vediamo il servizio di Manolita Scocco. Il danno d'immagine si è già trasformato in danno economico. Con queste parole il Presidente dei Federalberghi, Bernabò Bucca, commenta l'impatto del coronavirus sull'economia del turismo. Il Presidente degli albergatori italiani, nel riferire che iniziano a pervenire molte cancellazioni, ribadisce che in questo momento è importante mantenere i nervi saldi e attendere l'evolversi della situazione, confidando in un rapido miglioramento delle prospettive. Gli operatori del settore navigano a vista in un mare in tempesta, senza però mai perdere la speranza. Emilia Torresi gestisce un'importante struttura in una località del Maceratese. Come sta reagendo la clientela a questa emergenza sanitaria? E voi, da operatori del settore, cosa vi sentite di dire? Di avere fiducia, perché dobbiamo gestirla al meglio. È un'emergenza, ma lavorativamente parlando, è più forse la comunicazione che ci danneggia, possiamo dirlo, perché dall'estero arriva una comunicazione molto forte. Ma qui c'è molta tranquillità. La vita può proseguire tranquillamente, Il locale è pronto per ripartire per la nuova stagione e speriamo che questo momento sia gestito al meglio. In questa location fate anche importanti cerimonie, come i matrimoni. Da questo punto di vista c'è qualche preoccupazione? Avete qualche segnale? Quest'anno i matrimoni partono molto presto, perché già iniziamo con i matrimoni proprio dai primissimi giorni di aprile. Le coppie con le quali ho avuto modo di confrontarmi sono positive e non vogliono rinunciare a questo momento, malgrado una di loro vive in Svizzera e per loro si sta parlando di rimandarlo, semplicemente di qualche mese. Un atteggiamento positivo nonostante, per esempio, questo territorio abbia già dovuto fare i conti, solo qualche anno fa, con un altro evento drammatico, il sisma. Se guardiamo indietro, il 26 agosto del 2016 abbiamo trovato una situazione molto difficile, pieno il 26 e vuoto il 27 agosto. C'è stata una stagione 2017 difficilissima, 2018, però il 2019 i segnali erano più che positivi, anche grazie alla promozione turistica che la nostra regione ha fatto. Quest'anno doveva essere, ma lo sarà, doveva essere un anno positivo sotto il profilo ricettivo e noi abbiamo deciso anche di investire, di aumentare i servizi, di crederci. Quindi, se è andata bene una volta, diciamo che dobbiamo riuscire tutti insieme a far sì che vada bene anche questa. L'assessore regionale all'istruzione, Loretta Bravi, ha diffuso oggi una nota scritta rivolta a studenti e dai colleghi docenti. L'attuale difficoltà non è, come sostiene qualche irresponsabile banalizzatore dogmatico, una maledizione, una iattura. È un momento difficile che non esclude la nostra capacità di trovare il bene e l'utile nella condizione che ci è data. La sospensione delle elezioni non sarà allora tempo perso. La didattica a distanza, di cui adesso comprendiamo meglio l'utilizzo e il valore, ci invita ad un rapporto corretto con la rete e con i nostri smartphone. Nuove misure adottate anche sui mezzi con erobus per far fronte a questa emergenza. Oltre all'attività di disinfezione quotidiana dei veicoli avviata dal 24 febbraio, l'azienda ha integrato le cassette di pronto soccorso già presenti sugli autobus con specifici kit composti da mascherine, guanti monouso, gel disinfettante e bustine dove riporre il materiale usato da conferire come rifiuto indifferenziato. L'equipaggiamento sanitario affidate e conducente in dotazione su tutti i mezzi in servizio sulle linee urbane e extraurbane ed a lunga percorrenza, compresi l'aerobus e la navetta di collegamento all'interno dell'area portuale. Ed andiamo ora a Macerata, attenzione agli anziani ed ulteriori raccomandazioni alla cittadinanza in questa intervista con il sindaco Romano Carancini. Un medico che lavora all'ospedale di Macerata positivo al coronavirus. È questo un nuovo caso in provincia di contagio. Da quanto emerge il medico da alcuni giorni si trova a casa in malattia per via di un'influenza. In seguito è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. Il medico comunque sta bene. Limitare il contagio è l'obiettivo dell'ordinanza restrittiva valida fino al prossimo 15 marzo e sale il livello di guardia anche degli amministratori locali. Noi abbiamo intervistato il sindaco di Macerata Romano Carancini. Noi abbiamo cercato ogni forma di comunicazione, quella più semplice che possa arrivare a tutti, che sono i tradizionali social. Accanto a questo c'è questo alert telefonico che arriva con la voce del sindaco attraverso la quale diamo le indicazioni che riguardano le precauzioni. Cerchiamo di far capire che è una situazione difficile ma che il panico non deve essere preso perché le autorità sanitarie nazionali e il percorso che si sta facendo è estremamente positivo e ci porterà con fiducia, come ha detto ieri il nostro Presidente della Repubblica, alla soluzione ritorneremo ad essere più forti di prima. Sindaco, i più fragili sono gli anziani. Avete pensato a loro? Il Comune di Macerata ma ho proposto, abbiamo proposto come Anci, anche in sede di cabina di regia, un progetto che cerchi di mettere insieme tutte le associazioni del volontariato per realizzare un progetto in grado di rispondere alle esigenze degli anziani. Faccio dei semplici esempi, la spesa piuttosto che le medicine, piuttosto che un qualche adempimento formale, quindi tutta quella serie di bisogni essenziali basilari che invece le amministrazioni hanno il dovere di fare. Ho aggiunto che accanto a tutto ciò, speriamo in queste poche settimane, in questi pochi mesi, ci debba essere anche un'attenzione alla parola, cioè gli anziani hanno bisogno di ascoltare, di parlare, di sfogarsi e quindi dentro questo numero verde che proporremmo, se ci fossero, se riusciamo a mettere anche delle persone in grado di rispondere e dialogare, credo che riusciremmo ad attenuare questa fase così complicata. Veniamo ad alcuna notizia di cronaca. Dramma a Castelbellino, piccolo centro della Valle Sino, un ragazzo di 16 anni è morto improvvisamente nella sua abitazione. A fare la macabra scoperta è stata questa mattina la mamma che ha subito allertato i sanitari, ma nonostante l'arrivo dell'eliambulanza, il giovane studente di un liceo di Iesi era già morto nel sonno. Ed un 31enne è stato travolto nel pomeriggio da un convoglio ferroviario lungo la linea adriatica Porto Potenza-Picena, poco lontano dall'Istituto Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un gesto volontario. Due uomini viaggiavano a bordo di un'auto lentamente a fari spenti verso le tre di notte, portando nel bagagliaio merce rubata per un valore di circa 13 mila euro, comprendente attrezzi da lavoro ed un personal computer. Sono stati scoperti ed arrestati per concorso in furto aggravato dai carabinieri del NORM di Urbino durante un controllo a Fermignano. Gli arresti, si tratta di due campani di 35 e di 28 anni con precedenti di polizia, sono stati poi convalidati dal Tribunale di Urbino che ha posto entrambi agli arresti domiciliari presso le loro rispettive abitazioni. I militari hanno notato due valigette metalliche sul sedile posteriore contenenti attrezzi da lavoro. I due hanno detto di essere operai in trasferta per un lavoro senza saper indicare dove lo dovevano svolgere. Nel bagagliaio i carabinieri hanno trovato altra attrezzatura, martelli pneumatici e trapani. Parte della merce era stata sottratta in tre furgoni di artigiani derubati di merce per un valore di 3 mila euro. Incidente stradale poco prima di mezzogiorno in via Sandro Pertini a Tolentino per cause in corso di accertamento. Forse un malore del conducente, un furgone sbanda, si scontra con un'autovettura e successivamente si ribalta. Le due persone coinvolte sono state poi trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dove le loro condizioni sono costantemente monitorate. Rush finale delle audizioni live di Musicultura anche stasera e domani diretta su TVRS Marche, canale 111 dalle 21.15 a Macerata si sta per giungere alla rosa dei 16 finalisti. Se c'è una bella certezza in questo periodo è sicuramente Musicultura che con le sue canzoni, scansonate ed impegnate, alleggerisce gli animi e ci fa volare sulle note colorate di un panorama musicale italiano che ha qualcosa da dire e raccontare in un continuo fermento artistico. Largo all'avanguardia e dalla sperimentazione con le canzoni di Paolo Rigotto, autodidatta di Torino che ha conquistato il premio MedStore assegnato dalla giuria del festival per la migliore esibizione della serata. Ad accaparrarsi invece il premio Valdichienti del pubblico dei social Alberto De Luca che si è esibito live con le canzoni in maflair, un brano che tratta di gelosia, nuvole e deandrè. Le audizioni live in diretta su TVRS canale 111 e di streaming sulla pagina Facebook di Musicultura continuano per il Rush finale domani sabato 7 marzo con gli ultimi sei artisti in programma, Miele, Alex Ricci, Giannicaro, Fabio Curto, Magma e Velade. Ricordiamo che in quest'ultimo weekend di musica sono ancora in vendita promozionale i biglietti per le grandi serate finali del festival del prossimo giugno all'Arena Sferisterio presso la Biglietteria dei Teatri in Piazza Mazzini 10 a Macerata ed il Centro Commerciale Valdichienti. Cerchiamo nella nostra consueta pagina sportiva di fare ordine e ricapitolare i pochi avvenimenti agonistici che verranno disputati, ovviamente lo ripetiamo per l'ennesima volta a porte chiuse. Nel calcio dopo il pareggio di mercoledì in casa contro il Chievo scendere in campo soltanto Lascoli, domenica alle 15 a Chiavari contro Lentella, arbitra Ivan Robilotta di Sala Consilina, assistenti Moctar di Lecco e Margani di Latina. I bianconeri prepareranno il match nel ritiro di Coverciano. Si tratta di una partita di estrema importanza contro i Liguri battuti 2 a 1 all'andata che attualmente hanno tre punti in più in classifica. Stellone recupera Gravillon ma dovrà fare a meno per squalifica dell'altro difensore centrale, Brosco, oltre che di Padoin che non è riuscita a smaltire i postumi di un infortunio. Visti gli impegni ravvicinati è più che probabile almeno un minimo di turnover, sempre out il lungo De Genti, in primis Ranieri, Beretta e Rossetti. Fermi i tornei di C, D e campionati regionali, le marche nel pallone comunque regolarmente in onda sui canali 11 e 111, domenica a partire dalle 21. Porte chiuse per tutti quindi, ma anche accessi limitatissimi al personale di servizio. Abbiamo cercato un po' di riassumere la situazione in questo servizio. Sarà per lo sport la prima di tante domeniche surreali. Impianti chiusi al pubblico ed una serie di restrizioni per limitare allo strettissimo indispensabile anche la presenza di addette ai lavori, stampa, personale medico e via dicendo. Tifosi connessi a tv, dirette streaming e smartphone, il tutto per limitare al massimo la cosiddetta socialità. Una situazione di totale incognita e più che mai si naviga a vista, ma almeno adesso c'è un filo conduttore uniforme ed una certezza, sino al 3 aprile le porti chiuse saranno una regola e chiaramente non è detto che finisca lì. Tra i punti più controversi quello relativo al calcio dilettantistico che sarà costretto ad adeguarsi alle direttive che arriveranno lunedì dalla riunione della Lega Nazionale con i presidenti dei comitati. Non saranno poche le difficoltà a cui andranno incontro le società per eventualmente far rispettare la norma di sbarrare l'accesso ai sostenitori. Problemi organizzativi e prettamente logistici si andrebbero ad assommare. Altro aspetto più generale riguarda tutti coloro che hanno sottoscritto ad inizio stagione l'abbonamento per la squadra del cuore. Ne sono migliaia, ad esempio ad Ascoli con il calcio, a Pesero con la palla canestro, a Civitanova con il volley ed il malumore tra di loro è inevitabile. Ma ci chiediamo se la priorità assoluta è ovviamente la salvaguardia della salute e frenare il contagio affinché non assuma le dimensioni di pandemia ed in subordine cercare comunque di portare a compimento le varie stagioni agonistiche c'erano alternative alle porte chiuse? Sicuramente no e forse c'era da pensarci anche prima. Lo sport è pronto insomma a fare la sua parte, invocando però che anche in altri contesti si rispettino certe direttive. Riprendono i campionati di basket anche se la XL Extra Light Poderosa Monteranaro giocherà il suo match contro Ravenna lunedì 9 marzo alle 20 e non alle 21 come precedentemente comunicato in palio punti fondamentali in attesa del recupero di Verona e della fase ad orologio visto che in Serie A2 si tratta dell'ultimo turno di regular season senza Chapman e Barford la VL Pesaro ormai rassegnata alla retrocessione e proiettata verso la prossima stagione riceve alle 17 e 30 la De Longhi Treviso. Sarà comunque interessante notare come i giovani biancorossi affronteranno queste partite sulla carta, quasi impossibili. In Serie B rinviata Teramo-Porto-Santelpidio si giocano i derby Fabriano-Sutor-Montegranaro sabato alle 20 e 30 e Civitanova-Senigallia domenica alle 18 e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 7 marzo. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo giornata di sabato che vedrà una zona di bassa pressione tra Italia e Balcani con ancora tanta variabilità all'estremo nord-est e centro-sud migliora però in giornata a partire dal nord-ovest con schiarite verso le Venezie e poi anche l'alto Tirreno risplenderà un po' di sole. Nel dettaglio la prossima grafica ci evidenzia delle precipitazioni al mattino ancora sul basso nord-est e poi gran parte del centro-sud specie parte adriatica e regioni meridionali. Dal nord però guardate inizierà adesso c'è un campo di alta pressione che domenica piano piano interesserà le regioni centrali con un netto miglioramento. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio ci evidenzia di fatti ancora qualche residuo fenomeno sull'estremo nord-est sabato mattina e poi l'instabilita informazione sul medio-basso adriatico regioni del sud con nubi minacciose qualche breve piovasco anche dei temporali alternati a schiarite. Bello invece tra Liguria, Toscana, nord-ovest con massime che localmente supereranno i 15 gradi sulla Valpadana occidentale. Dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Nel ciclismo è certo il rinvio della Tireno Triantico in programma dall'11 al 17 marzo con numerose tappe nella nostra regione. È arrivata la conferma ufficiale ma si sta cercando una nuova collocazione che potrebbe essere a giugno dopo la disputa del Giro d'Italia. Nella pallavolo di Serie 1 femminile la Lardini Filottrano torna al Palatricoli di Iesi per affrontare domenica alle 16 la Bosca San Bernardo Cuneo dell'ex Beatrice Agrifoglio anche qui ovviamente con l'incognita del lungo periodo di inattività agonistica. L'Ube in casa contro Trento con i campioni d'Italia che invece sono reduci dal bel successo in Champions nella trasferta belga di Roselera. In Serie 3 maschile G. Banfano contro Brugherio mentre la Minghi Schuss riceve Leverano e la Videx sarà Sabaudia. Nella compagine grottese dei suoi record parleremo nel volley di Spiker stasera alle 22.45 sul Canale 11 con il DS Romiti e lo schiacciatore Jan Willem Snippe. È tutto con il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione e buon weekend. Grazie a tutti per la cortesa attenzione e buon weekend.